È come andare a caccia. Bisogna affiutare l'affare e strappare il prezzo migliore. Così si fa. Questo è business. Il segreto quando si riconosce un buon investimento è condurre una trattativa senza esclusione di colpi. Sì! Per non farselo scappare. Non rinuncia a un affare, quindi convincetelo che ne avete uno per le mani e non vi mollerà finché non l'avrà concluso. 20 per il signore all'aggiù. Coraggio, avanti. 25-25. Venduto. Liquidator, una nuova serie. Ogni domenica alle 23.05 su Travel & Living. Grazie.